Terna ha fatto una diagnosi esattissima, la differenza tra il Napoli pimpante del periodo centrale del campionato e quello di questo periodo è proprio la maggior fatica che fa la squadra azzurra nell'andare in gol. Prima si può dire che creava l'occasione e segnava, adesso mette troppo tempo a crearla l'occasione, intanto guardatevi questa gran giocata di Fonseca che dà il pallone a Gambaro, il centro, il colpo di testa, pallone che va fuori di poco e il Napoli trova proprio in cata della cenerentola del campionato l'occasione buona per poter far...